Benvenuti amici dei fuoricampo, benvenuti a questo primo video sul campionato di Serie B la stagione italiana, calcistica italiana, è ufficialmente iniziata con l'open day della Serie B è cominciata senza gol, una delle partite più attese forse dell'intero campionato fra quella Fabari e Palermo, finita 0-0 dopo praticamente quasi una partita e due tempi supplementari giocati si è giocato praticamente per 110 minuti e passa, 11 ammoniti, due spulsi, un gol annullato all'ultimo minuto un rigore sbagliato, due episodi decisi dal VAR, tre episodi decisi dal VAR compreso il gol annullato doveva essere appunto la partita più importante della giornata fra la squadra che era uscita con le ossa distrutte dalla stagione scorsa, visto che eravamo qui esattamente due mesi fa per commentare la locambolesca e vittoria del Caglia nella finale di torno del playoff che aveva condannato il Bari un altro anno di B quando tutto sembrava fatto per la seconda promozione di fila il Bari sfidava il San Nicola nell'opening day in Palermo da tutti, da molti accreditato come la squadra più forte del campionato di B appunto di quest'anno e destinata forse addirittura per qualcuno a fare una corsa a parte sicuramente una delle poche che ha dichiarato i propositi di promozione bene finita 0-0 e la notizia è che gli impianti sono per entrambe anche se può sembrare paradossale pensare che una squadra che ha chiuso il 9 può avere impianti proprio perché la partita ha detto tantissime cose e va letta in base a quanto è successo in base anche a come è andata prima delle due espulsioni subite dal Bari quella di Maitre e quella di Cesare diciamo che il Palermo è sostanzialmente deluso non si può nascondere la realtà dei fatti innanzitutto dato più evidente non puoi perdere due punti non portare a casa una vittoria contro una squadra che gioca 30 minuti abbondanti compresi recuperi anzi anche 40 quasi 35-40 in due con due uomini in meno quindi magari il fatto che si sia giocato il 18 agosto che sia la prima giornata squadra in rodaggio incomplete a livello di mercato in condizioni atletiche insomma non ottimale può far pensare a un risultato che ci può stare però diciamo che se pensiamo a questa partita magari giocata a ottobre, novembre, dicembre sarebbero due punti clamorosamente persi per il Palermo di quelli che possono anche pesare nell'ottica di un campionato lungo in un campionato appunto di vertici come quello che vuole fare il Palermo di conto e il Bari guadagna ovviamente un punto guadagna perché è una squadra che si è trovata a giocare per larga parte nel secondo tempo con due uomini in meno e riesce a non perdere contro la teorica qualità del campionato non può che prendere un'iniezione di fiducia all'inizio di una stagione che poteva sembrare, può sembrare molto difficile come quella di molte squadre che perdono il playoff, la finale del playoff e anche in quel modo ecco quindi diciamo che la prima sentenza insomma noi analizziamo il Palermo perché come appunto sanno gli appassionati ai nostri canali quest'anno l'amico Diego Cristiani seguirà il Palermo in maniera approfondita tutte le partite della squadra di, della squadra rosa nero oggi, quest'oggi per impegni lavorativi, per problemi lavorativi Diego non ha potuto seguire la partita quindi lo sostituisco più o meno degnamente io ma ovviamente il nostro focus si concentra soprattutto su Palermo perché lo seguiremo più a lungo e quindi per questo sono partito da Palermo dicendo che sostanzialmente ha deluso analizzando in generale possiamo dire che il Bari invece si è messo in base, si è messo alle spalle la coccente delusione ha preso con Cagliari perché? Perché nel primo tempo comunque fino a quando diciamo sì nel primo tempo il Bari era piaciuto di più nel Palermo aveva creato di più le occasioni con le due occasioni di Nasti sventate da Pigliacelli l'occasione di Sibilli un pallone cicato in mezzo all'area l'errore anche di Maita sempre nel primo tempo insomma il Bari aveva creato diverse occasioni con una formula offensiva inedita e interessante praticamente il Bari ha giocato a parte del portiere Brenno con la formazione dell'anno scorso con i giocatori dell'anno scorso fra centrocampo e difesa e completamente nuovo l'attacco con Sibilli Nasti e Diò tutti bene nel primo tempo specialmente nei primi 30-35 minuti anche Diò che si è fatto male pochi secondi dopo aver servito un bel pallone appunto sprecato da Sibilli molto bene anche Sibilli in questa veste del trequartista che non sarebbe il suo ruolo ma poi lo ha fatto suo e Nasti magari rivedibile perché magari sotto porta non è stato impeccabile ma comunque un tridente che non dà riferimento perché Mignani aveva chiesto e ottenuto interscambi di posizione soprattutto fra Nasti e Diò e i risultati si sono visti ecco quindi un Bari imprevedibile un Bari molto rapido anche nel ribaltare l'azione quindi sicuramente una squadra che in attacco ha cambiato tanto magari può sentire l'assenza di uno stoccatore di un punto di riferimento perché quando è entrato Schettler che ha caratteristiche diverse un giocatore molto più statico tecnicamente molto molto grezzo e insomma utilizzabile e spendibile sui palloni alti per le spizzate e le seconde palle lì il Bari anche prima delle espulsioni ha perso molte vele di pericolosità e anche di imprevedibilità della manovra comunque tutto sommato per le occasioni create nel bel primo tempo per la resistenza stoica nel secondo con le due espulsioni sicuramente al Bari va un voto molto alto per questo debutto considerando che erano le scorie c'erano le scorie della traumatica sconfitta nel finale del pilota dell'anno scorso e del pessimo inizio di stagione perché non più tardi di una settimana fa 8-10 giorni fa il Bari aveva perso molto male il primo turno di Coppa Italia in casa 3-0 contro il Parma Palermo invece il voto non può che essere molto negativo ma non solo per il fatto che alla fine i due punti persi ci siano stati sono evidenti come la squadra di Corina abbia perso in una grandissima occasione ma anche per il gioco per quanto visto nel primo tempo il portiere del nuovo il portiere del Bari l'unica novità tra difesa e centrocampo del Bari era in porta Brenno è stato alla fine efficace ma non ha dato una grandissima dimostrazione di sicurezza al di là dell'errore all'inizio poteva essere veramente devastante con il pallone perso sul tiro da lontano di Vazic che ha battuto sulla traversa poi recuperato è stato efficace in un'altra azione nel secondo tempo sul colpo di testa di Brunori stoppando col petto insomma più efficace che bello esteticamente non certo molto sicuro sulle uscite ma comunque è stato efficace ma al di là di questo a lungo Brenno è stato inoperoso perché il tiro di Vazic è stato dopo un minuto è stato l'unico del Palermo per tutto il primo tempo nel secondo il Palermo ha inevitabilmente preso in mano un'iniziativa dopo l'espulsione di Maita decisa dal VAR per un fallo viene stata molto decisa le centrocampiste del Bari centrocampo sicuramente non a far male ma è entrata in ritardo e ha fatto poteva procurare veramente un futuro molto grave a Vazic alla Caviglia alla fine dopo il giallo Maresca è stato richiamato al VAR ha cambiato in rosso lì il Bari ha ovviamente tirato una linea e ha pensato solo a difendersi e il Palermo è riuscito a concludere pochino insomma le occasioni ovviamente ci sono state abbiamo detto il copogliato di Brunori smettato da Brenno il rigore insomma il rigore che c'è stato per l'evidentissima trattenuta di Cesare a Brunori c'era già stato uno un rischio poco e pochi secondi prima con Dorvalo sul stesso Brunori lì in effetti forse è stata una trattenuta reciproca nella seconda occasione sinceramente molto forse anche molto visibile anche dal campo Maresca ha avuto bisogno del VAR ma comunque la fine del rigore è stato dato di Cesare è stato ammunito per la seconda volta di Mariano ha calciato come peggio e non avrebbe potuto e lì insomma diciamo che Palermo aveva veramente un match point insomma il Bari ha giocato in nove tra l'altro è stato bravo Mignani a cambiare volto la sua squadra ha aspettato un po' troppo forse dopo la prima espulsione quella di Maita a ridisognare la squadra lì era passato a un 4-3-2 insomma molto molto particolare e alla fine poi si è ridisognato bene è passato prima alla difesa 3 con l'inserimento di Zuzek alzando Dorval e Ricci e inserendo Menez insieme a Schettler in avanti poi dopo abbiamo messo la prespulsione di Cesare è dovuto tornare a 4 un 4-3-2 prima con Menez trequartista poi quando è uscito Schettler con Dorval con Menez mezzale e poi addirittura con Dorval mezzale insomma diciamo che nella parte finale della partita sono saltati tutti gli schemi insomma il Bari più o meno le posizioni le rispettava era una specie di 4-3-1 ma tutti dietro e il Palermo non ha avuto le idee non ha mostrato di non avere le idee insomma come attaccare una squadra tutta sferragliata e praticamente con due giocatori in movimenti in meno male Corini male la costruzione della squadra cioè si è visto un Palermo privo completamente di spinta sugli esterni si sapeva cioè Matteio e Cercaroni non sono due esterni da squadra che punta la promozione anzi Cercaroni non è neanche un esterno e paradossalmente sono uno di quelli che ha giocato meglio perché ha appoggiato l'azione anche fino alla fine nel convulso finale in cui non c'erano più schemi addirittura si ha messo anche qualche bella palla in mezzo ma così non può impuntare vincere un campionato centrocampo c'è poca qualità Stulac è un regista che conosciamo l'anno scorso avuto tanti infortuni ma non è uno che accende la luce Vazic è sicuramente un giocatore di talento ma ha bisogno per rendere di un centrocampo completo insomma non può essere solo lui che accende la luce Gomez è l'unico probabilmente insottituibile per Corini che non l'ha cambiato in questa partita a differenza degli altri ma è un portatore di palla insomma è neanche un frangiflutti comunque un giocatore di interdizione che non si vede mai nel metà campo altrui insomma non è un fattore in questo tipo di partita ecco oggi il Palermo ha evidenziato tutti i suoi limiti quando quando deve fare gioco quando deve costruire e il passaggio a 4-2-3-1 4-2-4 nel finale è stato anche peggio insomma di prima insomma perché si è confermato che Brunori e Mancuso non fanno fatica a giocare insieme Di Mariano e Insigne sono stati messi larghi Brunori e Mancuso sono stati messi vicini a tratti uno sotto l'altro o vicini ma comunque si sono quasi pesati i piedi poi anche l'ingresso di Soleri alla fine molto confuso l'ultimissima azione prima del gol annullato Soleri e Buonori sono ostacolati poi il gol annullato anche lì Buttero si è trovato quasi nella posizione di assistment per caso ha messo dentro un pallone Buonori nel fuorgioco di un soffio ma anche lì poi confusione nella palla dell'impassato su Mancuso che poi ci sta magari segnare un gol in maniera cambolesca il Palermo è sembrato una squadra costruita male sul mercato perché al di là di tutto dei grandi nomi Lucioni va benissimo Ceccaroni va benissimo Signi e Mancuso ma come abbiamo detto priva di terzini di ruolo praticamente specialmente sinistra e priva di un centrocampo in grado di costruire di supportare le azioni con gli usierimenti in attacco Brunori è stato il migliore insomma e non solo in attacco è stato quello che si è ha fatto il possibile insomma si è poverato un rigore e mezzo aveva quasi segnato l'ultimo minuto un'altra occasione poi è sbattato da Brenno di petto insomma ha fatto tutto il possibile ma è un giocatore che non può procurarsi i palloni da solo ha bisogno di essere alimentato gli sono arrivati pochi cross Insigne anche lì crossava sempre col sinistro giocando a destra Di Mariano il rigore orribile per il resto si è visto pochissimo di Mancuso abbiamo detto che fa fatica a giocare insieme a Brunori insomma diciamo che Palermo molto rivedibile è stata molto deludente a livello di gioco di occasioni di personalità una squadra che deve fare ancora deve lavorare tanto per essere considerata una delle favorite ma soprattutto una squadra che deve essere completata abbiamo letto i terzini abbiamo letto il centrocampo e comunque sono due punti persi che peseranno anche perché insomma diciamo questo campionato come sappiamo è particolare c'è la X ci sono i recuperi il Premo la prossima settimana non giocherà nella seconda giornata giocare con la famosa X non giocherà scenderà in campo alla terza quindi due trasferte dopo questa Reggio Emilia con una delle squadre forse della B che ha cominciato meglio la stagione in Coppa Italia eliminato il Monza a Reggio Emilia non sarà semplice giocare è una squadra che ha fatto tantissimi ebonati insomma diciamo che la stagione Premo non sia ovviamente già complicata ma comunque magari si spera auguriamo ai tifosi del Palermo insomma che Bigon e i direttori sportivi insomma Rinaud e Bigon possono aver capito dove migliorare questa squadra poi è chiaro che tutte le colpe cadranno su Corini adesso che ha sicuramente responsabilità ma insomma sicuramente ha fatto confusione anche lui nel finale ma con le seduzioni non dando ordine all'assalti finale anche tatticamente ma insomma una squadra che sembra mancare anche di leader di carisma insomma a parte Brunori insomma a centrocampo non ci sono giocatori in gara di trascinare i compagni ecco quindi se il buongiorno si vede al mattino sarà una B incertissima intensa molto equilibrata col fattore arbitri insomma 12 ammoniti oggi e praticamente 20 minuti di recupero fra primo e secondo tempo insomma quindi è un abitaggio non impeccabile insomma perché gli episodi chiave se gli è fatti sfuggire ha avuto bisogno del VAR ecco comunque Bari-Palermo 0-0 Bari a settimo giro dopo aver rischiato di avere un'altra beffa all'ultimo secondo dopo quella di Pavoletti al finale playoff con quel gol annullato giustamente per un leggero fuorigioco di Brunori comunque Bari che si mette alle spalle anche alla perita col Parma di Coppa e prova a ripartire in segno di attacco nuovo e frizzante è Palermo che deve riflettere su questa partita ma soprattutto su un mercato da concludere in alcuni ruoli chiave per rispettare il ruolo di favorita ci sentiamo con i prossimi video del Palermo ovviamente dalla prossima settimana il pallone il testimone passerà a Deco Cristiani per legare il Palermo ricordiamo questa settimana ci sarà la folla il Palermo non giocherà l'appuntamento per la settimana dopo a Legge Emilia un saluto a tutti e restate sui video del fuoricampo Grazie a tutti grazie a tutti